Sindaco Luciani si torna in pista ad un anno dalle elezioni, oggi arriva l'annuncio della sua ricandidatura a primo cittadino di Francavilla. Con l'orgoglio di aver compiuto un percorso in questi quattro anni che è stato un percorso difficile, molto duro, però un percorso di virtuosismo che ha portato questa città a uscire dal degrado nel quale stavo, pian piano, e con la consapevolezza che c'è tanto, tanto, tanto ancora da fare. E' stata ricomposta la frattura con il Partito Democratico oppure no? Oggi qui il Partito Democratico non c'è, io mi sono espresso in maniera chiara, non è un mio problema, è un problema del Partito Democratico, visto che i vertici regionali hanno una buona amicizia, visto che noi siamo un'amministrazione di centro-sinistra, però di fatto il Partito Democratico, la sezione del Partito Democratico di Francavilla è alla mia opposizione, è ovvio che è un partito con molte contraddizioni in questo momento. Sindaco Luciani, cosa non è riuscito a fare in questi anni e cosa vorrebbe fare in vista del prossimo mandato, anche del prossimo anno, dell'ultimo di questa amministrazione? A Francavilla c'è ancora bisogno molto di ordinario, perché ci sono interi quartieri dove ci sono marciapiedi impraticabili, strade impraticabili, io me ne rendo conto, però i cittadini si rendono anche conto con me che questa città l'ho ereditata 4 anni fa in uno stato veramente pietoso, passatemi il termine, e l'ho ereditata soprattutto con una montagna di debiti fuori bilancio. Oggi o fra un anno io la riconsegnerò mostrando le fotografie di ciò che abbiamo fatto e soprattutto mostrando un bilancio che finalmente è un bilancio sano.